Grazie a tutti Grazie a tutti Più che altro Il problema è che Noi abbiamo troppe Abbiamo pochissime Non troppe poche Diciamo che non mi piace molto come espressione Troppe poche anche se la uso spesso Abbiamo pochissime divisioni Con la quale possiamo sbarcare Non perché le nostre igiene non sono buone per sbarcare Ma semplicemente perché la nostra dottrina a sbarco Prevede un massimo di 10 divisioni per lo sbarco Quindi sbarchiamo il tempo Non prendiamoci a chiacchere Diamo un casino di roba da fare E se stiamo fermi sicuramente non concludiamo niente Ci stiamo spostando Fortunatamente Con l'arrivo delle nostre divisioni Riusciamo a difendersi Qua la difesa È molto difficile Anche l'attacco è difficile Per il fatto che Stiamo morendo di attrito Il problema è che dobbiamo ridurre le divisioni Ma Ridurre le divisioni E che varrebbe un suicidio Perché alla fine ci rispingeremo Perché sono più forti Quindi loro è un assoluto vantaggio Che Della quale non possiamo farci niente Dobbiamo solo sperare Di poter Sfondare Da questo teatro principale Del pacifico Che Peraltro mi sembra Mi sembra che dovremmo avere un buon vantaggio Ora appena siamo Un pochino più pronti Che tra l'altro forse siamo già tutti Non lo so Aspetta Vediamo un'occhiata Chi manca Eh lo sto cazzo Manca un casino di divisioni Che sono quelle che andiamo ad oltre questo piano qua Che abbiamo razionato Anzi si è azionato Razionato Non so Non so come definirlo Questo piano perché era già pieno di tre positioni Però Ragazzi qui è assolutamente insostenibile Non possiamo permetterci di tenere queste altre visioni Quindi Metà le mandiamo a casa Eh sono davvero troppe Quindi Oh madonna che palle Queste Mi sono incassato perché il corso è andato da puttane Eh Queste sono le unici che terremo qua Tra l'altro ci fermeremo Perché dobbiamo un po' disporci E Togliendo questo teatro Tra l'altro Dovremmo ora Essere scherzi tutti no? No Nonostante ciò Abbiamo comunque il problema Andiamo di mezzata la divisione vi ricordo E mica Mica ragazzi Forse dovremmo ridurli ulteriormente Per quale motivo volevano sbarcare non lo so Non ci interessa Forse Ora qui come Che piani stiamo facendo? Stiamo facendo la guerra civile nel Nel Regno Unito Me ne ero scordato O sbaglio? Sì E ci vorrà Ci vorrà ancora un botto Me ne ero completamente scordato Molto bene Questa probabilmente sarà la La chiave che ci farà vincere Cazzo Due divisioni Guardate un po' cosa facciamo noi Guardate un po' cosa facciamo Dai Dai Non possiamo perdere di nuovo No Stiamo perdendo Conto due divisioni di merda Io non posso fare niente Per mettere bombardamento Non possiamo perdere di nuovo Cazzo No Abbiamo perso ragazzi Questi inglesi sono semplicemente Invincibili Ragazzi Non so neanche guardare Lo sbarco Tanto Sono invincibili Torniamo nel teatro importante Ovvero quello Contro gli Stati Uniti Qui la situazione è la stessa Forse duro Torniamo nel video Direi qui Non c'è la nostra prima offensiva Perché non possiamo aspettare Troppo tempo Altrimenti Va a finire Che magari perdiamo Perché ne ho aspettato troppo No Quindi lanciamo l'offensiva E vediamo che È negativo dappertutto Non ci sono punti in cui è positivo Questa è una momentanea Che non vinceremo mai Impossibile Perfetto Stiamo andando davvero bene Direi una bella partita Qui sbarcano L'Austria Sbarcata Qui 90 Ma tanto non vinciamo Ma anche per il cazzo Qui c'è altri turchi Che sono stati uccisi Mi dispiace però Perché stanno impegnando Siamo negativo di caccia Dovremmo aumentare la produzione Dei aerei E anche di molto Perché altrimenti Avremo dei grossi problemi Ne contrastare I pericentrale Poi quando dovremmo Contrastarle No questo è impossibile Perché tanto loro Ci sbarcare qui è impossibile Perché loro continueranno A buttare divisione lì Allora mi sembra Che due divisioni Si stiano ritirando Sono senza Una e senza ordine Non capisco Sì? Quindi essendo una Senza ordine Io posso Avviare uno sbarco Uh Questa potrebbe essere buona Come cosa Dai cazzo Potrebbe essere buona Perfetto Perfetto Ce l'abbiamo fatta Andiamo al porto Molto bene Non ci speravo mai più Ma questo va bene Quindi facciamo così Vediamo un po' Come va a finire Speriamo di avere Un buon supporto Ovviamente Ora qui Dobbiamo Ampliarci Il più velocemente possibile Che dobbiamo tenere Il più territorio Altrimenti Avremo dei problemi Ora E via terra Secondo me Dovremmo avere Un buon vantaggio Contro gli inglesi Sono quasi sicuro Che Dovrebbe funzionare così Eh però Se mi buttano Venti di divisione Diventa un po' Complicato Però le sue divisioni Sono sicuramente Di forti Dobbiamo impegnarci Qua è difficile La storia Molto bene Però Già qualcosa Quindi potremmo Vediamo un po' Quanto ci mette Magari impediamo Il Il coso Il colpo di stato Stanno espandendo A strungarci Complimenti Sono senza rifornimenti Però Direi che potremmo Iniziare la nostra Offensiva anche noi Allora Qualcosa Dovrebbe Uscire Di buono Torniamo qua Vediamo un po' 54 Stiamo vincendo No 46 Eh è un po' Dura La situazione La Russia dichiaria Quella al Giappone Però non so Cosa potrebbe succedere La Russia Molto Molto forte Il Giappone Invece È una merda Però è una buona flotta Molto interessante Questa storia Oh stiamo sfondando Dai che ce la possiamo fare Eh mettono troppa divisione Sul fronte È dura comunque Buono che Gli ottomani Ci stanno difendendo qua Però Non è abbastanza Vengono probabilmente Tentare uno sbarco A Cardiff Per Provare a smuovere La situazione Quindi Proviamoci Uno sbarco Cardiff Vediamo un po' Come Come va Potrebbe andare bene Vediamo un po' Mi sembra un'ottima idea Qui stanno Ah no Sì Siamo Abbiamo avanzato Bristol Proviamo così Stacchiamo Porca puttana Dai Proviamo a dipendere C'è il meno Merda Peccato Speriamo che questo Sbarco a Cardiff Vada bene Allora Il livello di superietà aerea Ce l'abbiamo ancora Ottimo Superietà aerea in Italia Ce l'abbiamo Così siamo ben difesi Ora Torniamo In Ma questa merda Questi malattie messicani Torniamo qua E possiamo notare Che nessuna Offensiva Ha avuto successo Proprio nessuna E qui invece La situazione È un pochino Migliore No Nel nostro teatro No Non possiamo combattere Perché abbiamo pochi Territori Rispetto ai Stati Uniti Ovviamente non possiamo Rifornirci Tanto i Stati Uniti Sono nel loro territorio Quindi possono rifornirci Quanto cazzo voglio A livello infinito E inoltre Abbiamo tantissime divisioni Che ci creano attrito Della quale non possiamo Farci niente Perché non vengono utilizzate Ci stanno solo Ostacolando Le nostre divisioni Sono pesanti ovviamente Quindi È dura come lavoro Allora Diamo un'occhiata A questo sbarco La 10 Quanto manca E manca 60 giorni ancora Lungo questo sbarco Qui siamo tutti In positivo Qui continuiamo Continua l'offensiva Porta di Maud Exit Oh cazzo Dai Non possiamo Perdere Andiamo Perfetto Se venivano assaccate Quelle divisioni Ragazzi Eravamo fottuti In una maniera assurda Andiamo a cercare Di prendere il porto Perché se lo prendiamo Andiamo Merda Se lo prendiamo Abbiamo Che cazzo è successo Sono il Giappone È entrato in più No Si Dicevo Se lo prendessimo Avremmo E basta Ma che succede È sempre la stessa cosa Perché me la ripetiamo Tante volte Comunque Dicevamo Ma Ma che cazzo Ma erano già in guerra insieme Tanto qui Stiamo vincendo Si sono ritirati A quanto pare Va bene Oh io mi sono un pendicoglione Ma perché chiami tutti Ha fatto un'altra guerra Ma vai a cagare Qui stiamo continuando A fare una serie di attacchi Ma Risultano Risultano complicati Lo che dovremmo fare Sicuramente È difendere qua Ma C'è perché Adesso ci fanno il culo E vedere Si 26 giorni Quindi non dobbiamo più Bloccare il tempo Adesso ci mettiamo Un miliardo di anni A sto punto Ci conviene farlo Col proistato Perché se continuiamo così Sarà difficilissimo sfondare Visto che ci hanno Respinto di brutto Guardate Quanto cazzo ci hanno respinto Allora Diciamo che Diciamo Che l'Unione Sovietica Non ha ben capito Come funzionano le cose Non puoi schierare guerra Al Giappone E a tutti gli altri alleati E poi uscirti Con una pace Non funziona così Non è successo Assolutamente un cazzo Perché dovresti Riappacificarti In questo modo Giappone era in guerra Contro di noi Gratis E basta Non è successo Assolutamente un cazzo Quindi La Russia Sarà una delle prossime nazioni A cadere Sotto il mio dominio E verrà annessa tutta Non Lascerò niente Di fantoccio Perché è davvero Improponibile Una situazione del genere Quindi Amici Che state difendendo L'Asia orientale Anzi L'estremo oriente L'Asia orientale Non ha senso Dovete aiutarmi Questi sei Qui ne lasciamo uno Nuovo comandante Promuoviamo Eccoti qua Dovremo combattere Dai Buttiamo giù la Corea Amiche Mi invia 28 divisioni La Russia Sì sì Tanto ti butto giù lo stesso Allora Ti rubo la divisione Giustamente Perché funziona così Poi ti butto giù Allora Non devo sbloccare il tempo Lo sto ancora Continuando a sbloccare Qui ci vogliono Ancora 35 giorni Esattamente Quindi la metà Abbiamo 0 di petrolio Nonostante il nostro petrolio Dovebbe essere aumentato Di parecchio 90 90 di petrolio Non basta Nella sproduzione Perché ovviamente Siamo Antiquati a livello di tecnologie Non noi Rispetto agli altri Ma rispetto al tempo In cui siamo Siamo nel 26 E dovremo ricercare Tecnologie Più avanzate Qui facciamo Tecnologie più avanzate Per Per avere Una Un maggior Utilizzo Più che utilizzo Sarebbe giusto dire Un maggior Ehm Non so come dirlo Cazzo Vaffanculo Una maggiore efficienza Ecco Nel produrre Combustibile Utilizzando il petrolio Quindi Nel raffinare Nel raffinazione Qui siamo fermi Qua Cazzo Sempre Assurdo Qui basta Non possiamo più attaccare Il teatro Il teatro è diventato Statico Siamo fermi Una cosa che dovremmo fare Sicuramente È Provare con questo barco Anche se Presumo che non Non l'avrà successo Qui Stiamo andando Cando di nuovo Il tranello De prima Delle motorizzate Quindi Dobbiamo toglierle Stiamo Un po' Bruciando Le motorizzate Quindi proviamo Non so se mi conviene Quante Oh cazzo Qui ce n'è poco Di motorizzate Aspetta qua Quindi secondo me Qualche divisione Carazzata Possiamo buttarla Cosa andiamo In negativo Madonna Così tanti Carre Facciamo solo Una volta Allora Semplice Siamo in Europa Quindi La nostra parte Di difesa costiera E direi che siamo A posto Ma com'è Quelle divisioni italiane Attaccano Ma che cazzo fate Ma non è vero Non sono italiani Sono sovieti Ah si perché Combattono Al nostro fianco Quei sovieti Quindi Si dice che sono No Ma non è così Allora non la mia Vedere quante divisioni Possono essere qui Però Potremmo Sicuramente Ander bene Qui un altro Sparco possibile Dover Un altro Sparco possibile Questo Che non so come si chiama Proviamoci Vediamo un po' Altrimenti Andiamo verso Di qua Buona divisione Dai Buono questo 91 Vediamo un po' Se si spostano Si stanno spostando Eh però Registrono troppo C'è il nostro 91 Dura un casino 10 divisioni Che ti attaccano Un po' Un po' Sbagliata Questa cosa Non ha senso Guardate quanto cazzo Di attrito abbiamo E loro non hanno Niente Di attrito Complimenti Andiamo avanti Con le dottrine 94 Questo sbarco Riesce Quindi Io direi che Secondo me Questo colpo di stato Potremmo togliere Perché io voglio Annettermi tutta Voglio annettermi Tutto Cancelliamo colpo di stato Fatto Visto che stiamo Andando bene Abbiamo tolto Punto Devole Della Gran Bretagna Ora sarà ancora Un po' lungo Buttare giù Stati Uniti Però Prima o poi Ci riusciremo Sicuramente Ora Fatto ciò Abbiamo Creato un bel teatro Direi che possiamo Espanderci Quindi Questi Facciamo così Creiamo un teatro Molto 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 Più vasto Con un'offensiva Altrettanto più vasta E allora vedremo Di organizzarci No Questo è un cartivo No Organizziamoci Poi vedremo di Attaccare Adesso Torniamo qua Che Sezione sta Andando al nostro favore Dai 98 99 Ora facciamo Il centinaia E Dovremmo vincere Questo ormai è vinto A meno che non buttino 20 divisioni qua Ma lo vedo impossibile Perché non mi sembra Molto furbo Cioè penso sia impazzendo Rain Units Dicevo Non lo vedo molto furbo La La sua fase di trincea Sta per finire Perché Siamo Ormai in una In un'ottima guerra Di posizione Anzi Che cazzo dico Di movimento Una guerra lampo Allora Ci portiamo 39 divisioni Ci mettiamo Un comandante Che promuoviamo Sono tutti Fottutamente uguali Questi comandanti Che casualità Cerchiamo questo Questi li mettiamo Porca buttana Questi li mettiamo qua Poi facciamo così E Avviamo una nuova offensiva Aggressiva Quindi abbiamo L'offensiva qua Fatto ciò Proveremo anche A fare l'offensiva qui Non riesce Però almeno Teniamo un po' fermi Molto bene Intelligente Questo piano Allora io direi Di mettere Due divisioni Qui In difesa di Cardiff Non possiamo permetterci Di farcelo prendere Ovviamente Mettiamo i carri Anche qui Per parare Porca puttana Questo problema Serve una fretta Di divisione Perché altrimenti Ci rompono I carri Non riescono a buttare giù Questi sono troppe Divisioni di panteria Giustamente Sembra anche normale Che non riusciamo a buttare giù Allora Una cosa che vogliamo fare Prima Che succeda il peggio È interrompere Gli attacchi E disporci Correttamente Per evitare che Ci succeda quello Che sta succedendo adesso No no Che cazzo fai Ma por No no Vedete Questo non doveva succedere No guardate Guardate quanto meno Si accade Mi ha preso pure il porto Com'è successa questa cosa Com'è successa Non ha senso Ragazzi No No Non ha senso Dove l'han tirata forte Da queste divisioni Che erano completamente Disorganizzati E vabbè Vaffanculo Questo Sappiamo già che farà Una brutta fine Quindi Facciamo così Qui Non penso che sia Possibile riattaccare Facciamo così Non c'è assolutamente problema Perché non mi fa senso Sì Andate affanculo Perfetto Guarda Bello eh Questi perché sono finiti qua Chi cazzo li ha mandati qua Boh Non lo so Gioco ha dei problemi Erano sbarcati Nel porto di dove Tra l'altro I nostri Oh cazzo Dobbiamo sostenere questo Questo C'è uno stupicetto umani Ma Erano stati respinti Adesso Sono di nuovo in gioco A quanto pare Quindi Cerchiamo velocemente Sostenere Questi loro sbarchi Però Dubito Che riusciremo a fare in tempo Io punterei sulla scossa Che potrebbe essere Meno militarizzata Intendo per l'espansione No Vengono già respinti ragazzi Non è servito assolutamente nulla Questo piano Qui non riusciamo ad attaccare Lo stesso Molto vergognoso Qui però Hanno 30 divisioni Le continuano a buttare Senti respinti Vengono attaccati troppo Non Non è fattibile Allora proviamo a sbarcare qua Ho visto poche divisioni Abbiamo qualcosa Ma perché Ho fatto una cosa sbagliata Invece di levarne Selezionarne Anzi No facciamo così Perfetto Dunkirk Proviamo qua Perché mi dici questo? Ecco Ah è una selezionata qua Tanto qua Li buttano via Quindi Assolutamente inutile Provare a salvarli Qui Le offensive Sono Sono inutili Allora Qui stanno attaccando Il brutto Ma non riescono a sfondare Quindi secondo me Potremmo provare ora A controattaccare Visto che Dovremo a essere messi Un minimo bene E invece Tutto malissimo Questa campagna Sta Sta avendo un risultato Direi penoso Visto che Ah forse si sono un po' svegliati No No In realtà no Non si sono svegliati poi così tanto Speravo In un risveglio Più efficace Invece Non è successo un caso Avevano fatto 40 milioni di morti Quasi 3 milioni Eh Avevano fatto molti morti In questa guerra Però è una guerra Difficile Perché In questa moda Il vero Uno dei grandi problemi Anzi È che Si creano Molto velocemente Tantissime divisioni E ovviamente diventa un problema Gestire tutte queste divisioni Qui solo una volta Eh no Dicevo diventa un problema Gestire tutte queste divisioni Ora stiamo avendo il nuovo Guarda quante cazzo di motorizzazione Stiamo producendo E Riusciamo lo stesso Andare negativo Stiamo proprio bruciando Tantissimi equipaggiamenti Eh Ovviamente Dovremo a mettere Un'altra linea di produzione Di motorizzazione Quindi Facciamolo Perché Come vi ho detto Ci servirà Cosa possiamo ridurre Cosa abbiamo tanto Abbiamo tanti equipaggiamenti Della fanteria Quindi Facciamo così Eh Sì Giustamente Giustamente Perfetto Ora dovremmo Teoricamente Rientrare Nella normalità Con i nostri Con la nostra motorizzazione Andiamo avanti qua Guardate quanto cazzo Andiamo indietro Ne abbiamo sfondato qua Guarda quando ci spingono di nuovo Mi sa che stavolta La Il nostro fallimento Sarà Devastante Allora No Meno male che Ho selezionato Cioè non ho fatto niente Altrimenti L'ho fatto un casino infernale Quindi Questo Interrompiamo l'offensiva Disponiamoci Vediamo Di non farci respingere Troppo velocemente Ovviamente Troppo pieno di visione Non riusciamo a fare niente Neanche dire Il rompere in un punto Scondare Guardate come ci buttano giù Allora ci buttano giù Anche qua Qui Facciamo l'ultimo sbarco Poi Poi interrompiamo l'episodio Qui ragazzi Non posso fare altro Che ammassarmi Perché Sono Sono troppo forte Questi Stati uniti Tante divisioni Ne avranno 600 Eh 64526 Il regno unitore Ne avrà 200 A 187 219 Addirittura Nel livello navale Siamo ovviamente fortissimi Però Non ci serve Il livello navale Se Poi Gli sbarchi Non servono assolutamente A un cazzo Quindi hanno perso Come vi ho detto Siamo tornati al punto di partenza Ragazzi Assolutamente La situazione È incolmabile Guardate quanto cazzo Quanto cazzo Di motorizzazione Stiamo bruciando E nonostante Abbiamo avviato Noi in produzione Tutti due fabbriche Vabbè Saranno 12 operative Perché le altre Sono un po' scassate Però E comunque Abbiamo avviato In produzione E siamo contenti Andando a andare Negativo E sarà molto difficile Questa guerra Tra l'altro Qui Io non ho Non ho proseguito Quindi direi Che possiamo Avere l'offensiva Per l'anguisto La Corea Questa Doveva andare Abbastanza bene Perché il Giappone Non è uno stato così forte Doveva avere Meno di 100 divisioni Sicuramente Minchia Si è fatto un sacco di divisioni In pochissimo tempo Questa roba è devastante Prima Quando era entrata in guerra Contro l'Unione Sovietica Aveva tipo Meno di 30 divisioni Adesso ne ha Ne ha 100 Quindi Complimenti Ci sono molto schifo Che non riusciamo più Ad attaccare Ma ci riusciamo a dispendere Praticamente Perché sono divisioni Molto pesanti Le nostre Ma rimane comunque Una situazione ridicola Allora Qui 6 divisioni Non sbarcheremo mai Non sbarcheremo proprio mai Lo sbarco Lo proviamo a fare Altrimenti Ci spostiamo Sottover di nuovo Quindi magari Proviamo a congiungere A questo fronte Ma sarà difficile Come vi ho detto Perché Sono Sono davvero molto pesanti Non sono pesanti Sono troppe Le divisioni Inglesi E qui Non sbarchiamo È inutile Possiamo restare a guardare Ma lo sbarco Non avverrà Potremmo tentare Di sbarcare Una divisione Una divisione È 8 qua Questo è uno sbarco Bastante sicuro Perché Intempiamo Completamente I rifornimenti In teoria In realtà Non so Se i rifornimenti Possono arrivare Quando un porto È in attacco Non ho la mia idea Però il buon senso Mi dice che Se il porto è in attacco I rifornimenti Quando è chiuso le strade Non possono arrivare A meno che non arrivino più a via aeree Però dubito che abbiano un programma Di rifornimenti Via aereo attivo Cioè Penso che sia impossibile Che ce l'abbiano Quasi impossibile Dai Non penso che lo faccia Di conseguenza Boh Vedremo cosa fare A questo punto Sì Dovremo fare col pulsato È stato stupido Non farlo Lo facciamo di nuovo Aspettiamo altri anni No Sbagliato Sbagliato Questo volevo dire Ah possiamo scegliere La parte Vedete Yorkshire Wales Questa è tutta Dovremo fare questo Allora In Scozia Sembra buono E va bene Vedremo poi cosa fare Quindi ragazzi Per questo video è tutto Ci abbiamo preso Un prossimo video Verso 4 In questa grande serie Vi ricordo di lasciare un piacere La serie Se siete presenze Se vi è al canale Se non siete iscritti La descrizione è molto importante Stiamo facendo abbastanza iscritti Ultimamente Ci serve per far Per far sì Che il nostro canale Cresca ulteriormente Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao